Trasformare la luce solare in energia elettrica significa ricevere un incentivo sulla produzione, risparmiare sulla bolletta e produrre energia pulita. Tutti vantaggi possibili grazie all'assistenza e alla collaborazione che può venire offerta da Ascotrade, l'azienda del territorio punto di riferimento nel settore energetico. Presente da oltre 50 anni nella fornitura di gas, Ascotrade ha voluto offrire un servizio in più agli oltre 350.000 clienti presenti in tutto il nord Italia, aprendosi al mercato delle energie rinnovabili e proponendo offerte altamente competitive, con progetti chiave in mano per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Ascotrade è vicino ai propri clienti con numerosi sportelli dove oltre a offrire servizi personalizzati e di sicura convenienza sia sul gas che sull'energia elettrica, propone impianti fotovoltaici in grado di abbattere i consumi di aziende e famiglie con risparmi garantiti. Risparmiare fino a 50 euro l'anno sulla bolletta energetica è facile. È sufficiente ricordarsi di spegnere gli elettrodomestici. Lavatrici, lavastoviglie, forni, macchine da caffè vengono dimenticati quasi sempre in modalità standby.